Io ringrazio tutti, tutti voi. Quando siamo arrivati con Idina nel lontano 91, eravamo due bambini, sinceramente, io ho 22 anni, Idina 19, pieni di paure, pieni di sogni, ma in una realtà che non ci appartieneva. Ed era molto difficile per noi adattarci a questo. Poi questo era il paese dei bambasten, dei guli, dei canigia, sembrava che c'era poco il spazio per un battistuta che nessuno conosceva. Nonostante quello, io ho trovato gente a Firenze che mi ha aiutato, ci ha aiutato, ci siamo sentiti così bene con Idina, che siamo arrivati da soli e siamo andati via con quattro figli. Siamo andati via, è un modo di dire, sinceramente, perché sempre siamo rimasti legati a Firenze. Consideriamo questa la nostra seconda casa, abbiamo tanti amici, Stefano, Stefano, Luigi Gaudiano e tanti altri. Un saluto particolare a Luigi Gaudiano che si vede poco, ma è un amico che porto sempre il cuore. Ragazzi, grazie, voi mi avete fatto innamorare la differenza e io sono contento di che questo sia successo. Gabriele Omar! Volevo dire una cosa di Gabriele.